Costituisce una discriminazione il comportamento posto in essere dal comune, consistito nell'avere adottato una ordinanza sindacale in cui prevedeva, ai fini di ottenere l'iscrizione all'anagrafe, che i cittadini estracomunitari possedessero dei requisiti in più rispetto a quelle richieste ai cittadini italiani, ossia la carta di soggiorno in corso di validità, il passaporto valido con regolare visto di ingresso e l'idoneità dell'alloggio. La richiesta di iscrizione all'anagrafe costituisce un diritto del cittadino, anche straniero, e pertanto non può dipendere da alcuna condizione che non sia fra quelle previste dalla legge. Grazie. 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 Grazie.